La prima cosa più importante è che noi amiamo la cultura italiana. E soprattutto noi uomini compriamo soltanto le marche italiane. Per l'economia della Repubblica Cieca sarebbe anche meglio non solo comprare ma anche produrre. Quindi sarebbe anche proprio opportuno che la compagnia di Hermann & Blind proprio inserirebbe le fabbriche di produzione qui in Repubblica Cieca. Quello ci aiuterebbe. Anche se non lo fate noi continuiamo a comprare le vostre cose.